bella giornata oggi è lei papà e andò che ci fai qua non smontato dal lavoro aspettate che ti do una mano attento ti fate male devi stare attento quasi cadi in mare la valetta guarda lì hanno buttato la fine una macchina e lì rimane a barcheggiato poi angelo tu stai visto una guarda sta schifezza e ma allora allora c'era è vero che te lo vendi il pescareccio è finito angelo domani me ne vado da mio fratello ho qualche soldi da patta almeno l'aiuto con il negozio mi dispiace vieni qua vieni qua come sto il navigatore è tornato ma si può sapere che fine caldo pure il giorno del compleanno di giuseppe pure il giorno del compleanno di giuseppe eccolo qua papà ma roba papà ti piace troppo grazie guarda ma è bella è bella apri va che altra hai fatto ma so fermata al porta a parlare un po con ciro e perché viene dalla barca pure lui si e ma che fa e che fa se la parte vai stavo pensando antonio e giusi potrebbero andare a studiare a roma la ci stanno già i fratelli tuoi sono andati a roma che avevano un obiettivo vogliono fare l'università loro non si sa che vogliono fare ancora no ma questo è il centro tu come hai aiutati i fratelli tuoi così aiuti pure antonio e giusi vedrai che se lo trovano pure loro un obiettivo a proposito domani accompagna antonio a pollica deve prendere la carta d'identità io ci devo accompagnare ma perché c'è qualche problema no no per carità Cala lì, è possibile, è possibile che ancora sulla spalla te lo devi portare, aspetta che ti aiuto, aspetta Pietro, mamma mia Come stai Pietro? Che ti devo dire, sono anni che chiedo 300 metri di strada, sti scurnacchiati, e niente, per portare Pietro a scuola mi ha già fatto tutti i scalapero, con malucuccia, buongiorno Don Marra Buongiorno a voi Dicono che per farla bisogna espropriare dei terreni, e si vede che così sarà, e intanto Pietro sta crescendo, e io mi sto facendo vecchia Donna Catarina, non capisco perché guardate a me, eh? Io per fare passare questa benedetta strada, secondo voi dovrei farmi espropriare un'intera limonaia, no? E mi dispiace Mi siete venuti a prendere la veritiva pollica? No, 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 sono venuto a controllare alcune delle mie proprietà Appunto, dico, con tutte quelle belle proprietà di una limonaia in me non è che sarebbe il suo grande problema, no? E certo, voi la fate facile, no? E che problema c'è? Scusate, ma se da voi venisse domani mattina un tizio, e vi dicesse, Vassallo, tu non puoi più andare a pescare, perché il mare serve per altre cose E ci manca poco che me lo vengono a dire, è diventata una discarica, andate a prendere la carta di identità al comune, va? Sì, andate qua No, no, aspetta, 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 aspetta Buona giornata Buona giornata a voi Che cosa intendete lì? Che cosa? Che voi, oltre alle limonaie, avete una bella azienda che scarica direttamente al mare, però a voi nessuno vi dice niente, non vi dice niente la provincia, non vi dice niente il comune L'assessore all'ambiente lo incontrano una volta soltanto, per incontrare i vigili a pollico bisogna venire a prendere il caffè Ma lasciamo stare, va? Va, va, accompagnami Fammi parlare, eh? Depuratore, che cosa ve ne frega a voi del depuratore? Ma state zitte, va, state zitto, depuratore, ma che ne sai tu, che ne sai che ne capisci, depuratore? Arrivato un depuratore, tu cazzi depuratore, e chi li mette i soldi, eh? Bravo, bravi voi e bravi loro Vassallo, tu parli troppo Io parlo troppo perché li fanno poco Ah, perché tu sai come si fa a fare funzionare un'amministrazione comunale Sì, basta fare il contrario di quello che fanno loro Vassallo, altro che pescatore, con tutte le cazzate che dici, tu dovresti fare il politico Abbiamo un bacaccio, una giornata Grazie